26 ottobre 1985. Il Valley. California. Il dottor Brown torna dal futuro con la sua DeLorean, macchina del tempo, per prelevare Marty McFly e la sua ragazza Jennifer. È indispensabile che raggiungano il 2015 per impedire che il figlio di Marty venga arrestato, per scontare un lungo periodo di detenzione.